buon pomeriggio a tutti cari amici e ben ritrovati dal sottoscritto nicola da lucia ebbene dopo un bellissimo pranzo gruppo rimpatriata sono qui di nuovo con voi per altri video per oggi parliamo di tennis maschile torneo atp rotterdam olanda cemento al coperto quarti di finali il nostro tenista con nazionale sinner numero atp 79 ha perso se contro carregno bussa numero atp numero 30 ma uscita a testa altissimo perché guardate i set il primo è stato perso per 75 secondo vinto da sinner per sei tre il terzo che è quello che è durato di più un'ora e nove minuti perso al tie break per otto sei quindi un egregissimo sinner che dopo due ore 46 minuti è costretto a cedere seppur di molto poco vittoria di carregno bussa quotata 1 e 80 1 e 81 quindi complimentissimo al nostro sinner che sicuramente dopo questo risultato dovrebbe guadagnare almeno qualche posizioncina in clan ranking che dire al prossimo torneo speriamo che nostro sinner al più presto possa vincere un torneo atp ribadiamo carregno busta batte ma solo al tie break dal terzo set il nostro con nazionale tenista sin per 2 a 1 ciao